Quella volta ho dovuto usare i miei poteri. Avevamo investito un uccellino, che peccato. Che cosa stai facendo? Guardate! È un miracolo! Mia madre mi ha insegnato che non si spreca il cibo. Quella aliena di mia madre. Che c'è di tanto strano? Anche il pollo è un uccello, scusa.